segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te non c'è dubbio che come dice vai vai non c'è dubbio che come diceva giustamente augusto minzolini ciò che più distingue la meloni e la fedeltà al suo patto elettorale con la propria base il punto è che questo patto elettorale dal sostegno ai medici novax alla revisione delle regole sul post alla revisione del di quanti cash si possono ritirare dal banco ma tutto questo lo ha messo l'ha messa rapidamente in ostilità e in difficoltà non solamente di fronte a banca italia come tu ci hai appena raccontato ma anche con la commissione europea e soprattutto con la maggioranza degli italiani e d'altra parte lei nel discorso di insediamento in parlamento in qualche maniera ha previsto questa situazione dicendo voglio essere il premier di tutti gli italiani io credo che questo è il passaggio che lei stia in questo momento attraversando cioè fedeltà alla sua identità originale ma consapevolezza che per fare il presidente del consiglio bisogna avere come timone l'interesse nazionale pensare a tutti i cittadini anche quelli che non la pensano come lei e questo spiega io credo l'intervista con un giorno a un giornale di opposizione come repubblicano il quale con grande franchezza affrontato un tema di interesse nazionale ovvero la necessità di rivedere ipnr perché questo perché obiettivamente come lei ha detto quello che ha ricevuto e dalle consegne che ha ricevuto dal governo precedente non sono sufficienti per centrare tutti i progetti che appartengono al recovery fund e naturalmente questo obbliga il governo italiano a prendere delle decisioni nelle prossime settimane saranno decisioni non facili comporteranno una revisione degli accordi con la commissione europea e questo probabilmente è il primo difficile impegno che aspetterà il governo all'inizio del 2023 ma il fatto che lei lo indichi con tale concretezza lascia intendere che finalmente forse giorgio meloni inizia a essere davvero un presidente del consiglio che ha in mente l'interesse di tutti gli italiani e non solamente con tutto il rispetto di quelli che l'hanno eletta però io io vedo anche forse la prima critica draghi quando meloni a palazzo chigi in questa frase no non critico draghi ma è un fatto che su 55 risultati l'aveva già detto mirta l'aveva già detto ti ricordi entro la fine dell'anno non ne siamo stati lasciati 30 cioè come a dire draghi sarà stato pure un genio e io sono tanto grato a lui tutte le i buoni consigli che mi ha dato però caspita e arriviamo a ottobre ci troviamo 30 risultati da da centrare non roba da poco non so cosa ne aspetta senti